...quattro... ...Ciara Antonelli e Matteo Ferraro... ...con il numero sette... ...Asia Bocchi e Damiano Lato... ...con il numero quattro sei... ...Adiana Francesca Pobreco e Ima Sulela... ...con il numero cento veinti nove... ...Geresa Castelli... ...Nunzio Starchemriano... ...con il numero cento quattro tre... ...Silvia Peschiavoli e Daniele Moschetta... ...con il numero cento ottanta... ...Paola Domma e Cristian Martini... ...AAAAART Grazie! 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!